Mi vogliono fuori scacciato, gli uomini che solo loro parlano, attorno al monumento due facce. Ognuno di noi vuole essere il padrone della nostra città medioevale, ed è geloso a morte dell'uguale. Io me ne andrò, sono un cane di nessuno, senza sua porta da guardare nelle notti di luna. Per questi vicoli insonni, nell'alba le donne andranno a infornare, e passerà la guardia urbana col libretto in mano delle contravvenzioni. Chi mi curerà lontano la crudele scalmana?